Silvia Toffanin ha detto no a Sanremo 2023? Spunta un nuovo retroscena Festival di Sanremo 2023? La conduttrice non ci sarà? Arriva il comunicato Mediaset Sono circolate insistenti indiscrezioni su Silvia Toffanin, co-conduttrice della prossima edizione della Kermess musicale al fianco di Amadeus Ma sarà vero? Su tutta questa faccenda ieri sera Mediaset ha lanciato un comunicato stampa in cui sono state confermate le suddette voci di corridoio In questa occasione però è stato anche rivelato che la presentatrice di Verissimo ha declinato l'invito del collega perché molto impegnata con il suo programma, ma anche perché non interessata a quel genere di, prestazioni artistiche, non sarà presente alla manifestazione, la proposta è stata fatta, ma Silvia Toffanin, ha declinato l'offerta in quanto impegnata con il suo programma e